Ciao ragazzi e bentornati, finalmente siamo riusciti a sbloccare un po' la situazione, ci siamo appunto trovati in questa sorta di casa del custodio, l'ha chiamata no? Sei casa del custodio, ok Allora ci siamo rifugiati qua, vediamo intanto cosa possiamo mettere giù e cosa... Cazzo Mamma mia, mi ero dimenticato di quanto è poco munizione avessi Stemma con vento, questo qua sarebbe da mettere là, vabbè dai, ci piaceremo più avanti Vediamo se c'è qualcosa da prendere, coltello, proiettini incendiari per il lancio a granate, però a parte quello Vabbè, niente, e l'accendino cosa ce ne facciamo? Mettiamolo giù dai Nel caso serva, lo riprendiamo Qua Gli spazi dell'inventario sono super iper fondamentali Due cose per curarci sono già troppe, vabbè dai, riusciamoli Anche perché visto e considerato la qualità di nemici che ci sono E la scarsità di proiettili, mi sa che ci prenderemo tanti tanti danni in sto gioco Sfila! Ma che cazzo? Porcaccia la pupazza Mi vogliono morto Questi qua Cosa devo fare qua sopra? Ah, forse è per passare lì senza che mi colpisca il tentacolo, credo Fa un chiulo No Un altro caso intrigato, spererei di no Là c'è una mappa Beh dai no, non è particolarmente grande Beh, c'è anche un piano sopra in realtà Vabbè, speriamo bene Oh shit Oh fuck Aiuto Ho capito che devo portarmi via il coltello qua Aiuto Eh, qui il coltello, qui è sicuramente un investimento saggio per questi nemici stupiti Per cui Ecco qua c'è un buco per terra Cerchiamo di evitarlo, vero? Signorina Un cazzo era da Ah, ho capito Allora Ecco appunto Porcaccia tua mamma Eh sì, ho capito dai Merda Questo qua è da mettere lì, ho capito dai Sapete cosa? No, vabbè Avrei voluto farmi uccidere Per fare anche l'achievement di morire almeno una volta Però vabbè, fa lo stesso Più di così non riesci, no? E allora è ad espostare un altro po' di qua Ok Perfetto Bene Risolto il problema Oh, perché cazzo? Ma non è possibile Scusate ragazzi Faccio una cosa saggia Perché mi sono rotto le palle Anzi, la vediamo se Io voglio morire Muori? No, fa lo stesso Lei non morire No, fa lo stesso Ma è il rettentacolo schifoso Coltellino Dove sei? Ok Qua dovremmo già curarci In teoria Ma questo qua cosa serve più che altro? Vediamo un attimo Cosa fa? Non è possibile Non ho idea di cosa posso servire Cioè no Posso immaginare Per curarsene Ma potrebbero dirvene almeno Va bene Va bene Allora usiamo questo qua Ecco Mettiamo giù la scatola Che tanto non ce ne facciamo niente per il momento Perfetto Questo qua lo otteniamo Equipaggiamoci con il super coltellaccio Che contro le api dovrebbe essere più che sufficiente In teoria Speriamo bene Api, api, api Finchè sono api Vabbè Ecco appunto Grande Ancora viva Ah ecco Mitica Questa qua Questa qua Secondo l'ora è chiusa Ok E questa? No Questa qua Secondo l'ora è aperta Questa qua Questa non è parte Questa non è parte Questa non è parte Questa non è parte Ma non è necessario Destruire le stelle Ehi là Questa c'è Barry Cosa per la mia famiglia? Se spiego le mie carte Non è parte Barry è un traditore? Wow Cioè sospettavo No ho visto L'atteggiamento Sospetto Ma mai l'avrei detto O forse sta venendo Ricchettato Non so Barry Sì ma sei proprio una polla Ma cosa stai dicendo? Boh La persona più sospetta di questo mondo E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa Veramente Resident Evil Da questa parte Cioè da questo punto di vista Mi dispiace dirlo Ma dovete ammettere Che voi E' proprio stupido E' proprio stupido Cazzo Non ha senso Una cosa del genere Vabbè E' proprio stupido Grazie a tutti. Quando i limb in forma di petalo si schiudono, rivelando le vitali parti... ah ok. Quindi fra poco c'è un super boss diciamo. E' questo il senso no? Qua mi sa che ho sbagliato tutto. Devo uscire e rientrare adesso. Perché dovevo mettermi qua e spostarla di lato, credo. Eh già, vedete qua c'è un ingresso. E qui c'è pure una porta, a quanto pare. Ah eccola qua, vediamo cosa c'è qui dentro. In teoria non ci sono mosso, dato che c'era Barry. Qualcuno si è andato da qua. Qualcuno è entrato. La fai a cagare. Cafferra. Cafferra. Per quello che sto un attimo attento. Ma no, ma poi ho preso l'oggetto che era lì. Lo vedi a di no? Oh sì, boh, non mi ricordo. Mi ha distratto quello zambio del cazzo. Sì, l'ho preso. Qui non c'è più niente da prendere. Ok. Vediamo se riusciamo a spostare l'armadio adesso. No, che non si riesce. Ah. Ok. Però prima voglio esplorare il resto della casa io. Tipo qua. Qua, qua. Anche se. No. Allora, questo qui è chiuso, va bene. Ma questo qua però è aperto. Eh, ci torniamo dopo qua. Speriamo bene. Questa mano, fra l'altro, lo mette molto molto bene. Questa è impronta di mano. Ok. Necessito urgentemente di colpi, cazzo. Cosa devo fare io? Non posso andare avanti così, eh. Ma che cazzo. Ma come faccio a schivarlo per la merda di tentacolo lì? Ah, adesso ho capito come faccio a schivarlo, dai. Cazzarola, devo coprire quel buco lì, allora io. Vediamo se faccio così. Adesso magari mi attacca nel mentre. Speriamo di no. Ecco appunto. Ah, me l'immaginavo, eh. Quello lì devo metterlo qua e dopo con quello lì scavalco anche quello lì. E levito tutti e due. Ma guarda che infami che sono. Un altro colpetto. Ok. Vediamo, vediamo se ho fatto giusto. Ecco. Allora, in teoria, facendo così. Io adesso posso fare così. Salire qua. Eeeh, eccolo. Questa era la soluzione. Fanchiulo. Vabbè, dai, meglio tardi che mai. Dicono. In realtà, a volte, è un po' triste come cosa. Però, vabbè. Tan 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 tan. Che cazzo c'è qui? Spererei che ci sia un piccolo cieco. Oh, porca caccia. Ma è pure acido. Sì. Là ce n'è un altro. Ma che cazzo parola. Ehi là. Una lampada a olio rossa spenta. Eh, bisogna accenderla, allora. Dove cazzo hai, Ragnone, che eri qua due secondi fa? Ti ho visto. Vieni fuori. Libro rosso. Vabbè. Questo non ci sta. Oh, ma munizioni neanche pregarle, eh. Cioè. Boh. Ragnone, dove sei? Ti avevo visto dove cazzo sei andato. Ah, ecco ti lì. Sei contento adesso? No. No, cazzo. Ah, ma le avevo viste le munizioni. Allora, eccole qua. Cazzo. Avrei dovuto prenderle prima, però. Merda. Vabbè, dai. Curiamoci, che tanto... Sì, ma non è possibile proprio i contati, eh. Cioè. Vabbè. Ma è morto questo qua. Che non è neanche perso sangue. Ma. Non mi convince mica tanto. L'ordine. Non sembra avere alcun significato E invece ti sbagli Vediamo intanto questo qua Cosa c'è Ok Secondo me Quel libro lì Rivela le sue scritte Leggendolo qua Vicino alle lampade rosse Però è solo una supposizione Chiaramente Quindi questo poi È un piccolo cieco Diciamo Non ho più colpi Solo questa chiave qua Apri Solo questa porta qua E l'altro 002 no? Vabbè Ah beh C'è anche da dire Che effettivamente Magari c'era scritto 001 E non me ne sono accorto Sulla chiave Ci sto qua è una zombie cassa C'è un zombie cassa Infame e maledetta Tanto lo so che ti risvegli Poco Rivenisse del bene È vivo questo qua eh Pezzo di stronzo Vediamo che ci sono quindi questo qua è il custode diciamo, dai pezzente svegliati io adesso entro qua e dopo lui esce perché lo so che è così cioè lui si sveglia, lo so che è così ehi là, ecco appunto lo sapevo è questo infame qua? porcaccia la pupazza prepariamoci allo zombie dove cazzo è andato l'infame? ma dai che palle boh no, ok ha ragione allora vediamo un attimo il da farsi mettiamo giù un po' di oggetti inutili dopo di che ci prendiamo la pistola che onestamente non ho idea di cosa possa fare pensavo fosse un'arma da difesa io diciamo tipo il coltello oppure, no il coltello e il pugnale scusate oppure il taser ma evidentemente non è così perché altrimenti me l'avrebbe presa per cui allora mettiamo giù questo ok mettiamo giù questo che per il momento penso non ci serva ci prendiamo l'accendino e e e e possiamo mettere giù il coltello adesso bene o male di colpi ne abbiamo spargliati e andiamo di là e prendiamo la chiave nella vasca che non ho idea di cosa serve a cosa serve e la pistola per autodifesa che anche quella lì può enorme punto interrogativo diciamo intanto prepariamoci psicologicamente che quello zombie la si sarà rialzato e infatti è qua no ma questo cacolo di prima è quello che ho appena ucciso in realtà questo cacolo sarebbe da bruciare cazzo perché si rialzerà più e più volte e e e e e e e e e Ah, che figata Uau Questa cura nel dettaglio, eh Vediamo se questo zombie si rialza Eh, ti ho scamato Dato che ti ho puntato in automatico Eh, eh, eh Infame, maledetto Vediamo un attimo Chiave per accedere a lasciare comandi Tu ti rialzerai Lo so È inevitabile Vabbè Qua ci sarebbe di andare giù per le scale Oppure andiamo di qua E vediamo un attimo Se tramite accendino Riusciamo a vedere il libro È solo un'ipotesi, eh Non è detto che sia così che si usi Comunque vediamo Un'ipotesi, eh Non ci usa più ah quella cosa lì sotto ho capito adesso ho visto l'ombra che intendevano allora quello lì è un occhio e su quella rossa cosa c'era invece che non hanno visto tanto qua ce n'è un'altra forse eh sì c'è questo qua verde non me ne era neanche corto vediamo un attimo vediamo se ho fatto l'ordine giusto involontariamente tanto che effettivamente sembrerebbe che segua quello delle palle da biliardo in teoria non sono completamente sicuro incrociamo le dita ok Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.